il testo dell'esercizio ci fa vedere un esercizio levemente diverso dai soliti in quanto abbiamo due condizioni che ci impongono per calcolare il luogo geometrico che sono tre condizioni uno sullo z che deve appartenere a c una condizione sul reale sulla parte reale del numero e una condizione sulla parte immaginale come si svolge questo esercizio? molto semplicemente siccome abbiamo fondamentalmente due condizioni diciamo così importanti che sono questa e quest'altra semplicemente bisogna mettere al sistema le due condizioni svolgere completamente il sistema quindi l'esercizio e quello che ci risulterà lo rappresenteremo come la soluzione del sistema e la soluzione e ci farà vedere il luogo geometrico ok? quindi parte reale minore di 0 parte immaginale di questa espressione con dentro il nostro z maggiore o uguale a 0 procediamo a semplificare diciamo e a scrivere i numeri z come componenti di numeri complessi come è fatto in questa posizione svolgiamo anche il numero complesso z in questa altra espressione procediamo in questo modo a questo punto ci troviamo con un'espressione di questo tipo io ho già raccolto la i al numeratore e al numeratore per farvi vedere meglio come si fa poi a risolvere a semplificare questa frazione minore di 0 una parte invece secondo diciamo membro l'ho già svolto vedete che la parte immaginale è semplicemente x più y è una parte che resta perché è quella che ha il numero immaginario i a questo punto la possiamo già scrivere a parte vedete nella condizione 1 l'ho già scritta cioè x più y maggiore o uguale a 0 è la prima condizione e la seconda va sviluppata invece allora per riuscire a restare la parte reale come sapete bisogna razionalizzare il numero per eliminare la i che c'è al denominatore cioè questa i non la vogliamo quindi moltiplicheremo il numeratore e il denominatore per x meno x meno i che moltiplica y meno 1 facendo così riusciamo al denominatore a eliminare completamente la i e svolgiamo subito i calcoli allora il denominatore diventa molto semplice perché resta un x quadro come vedete meno i quadro che è meno 1 quindi più 1 per y meno 1 al quadrato cioè resta sostanzialmente questa espressione e al numeratore svolgiamo tutti i calcoli e semplifichiamo svolgendo i calcoli e semplificando vedete che ci resterà un x quadro alla fine più questo fattore che si può scrivere anche in questo modo perché stiamo applicando il prodotto notevole al contrario ok quindi alla fine ci resterà come vedete questa espressione qua e già notate che non c'è più una i soprattutto non c'è il denominatore è lì dove ci interessa che non esista più di conseguenza possiamo eliminare cioè è tutta parte reale a questo punto non c'è nemmeno la parte immaginata perché non c'è più la i neanche il numeratore vedete quindi che possiamo scrivere x quadro più y quadro meno 1 fratto x quadro più y meno 1 al quadrato meno di 0 domanda secondo voi può essere minore di 0 il denominatore di questa frazione direi proprio di no infatti x quadro più y meno 1 al quadrato può essere solo discusente al limite non negativo ma a 0 e lo è nel punto 0 1 quindi dovremo escludere eventualmente dalla nostra diciamo qui soluzione il punto 0 1 perché è il punto che annulla il denominatore di questa frazione e non deve essere così a parte quello l'unica parte diciamo così da discutere in questo esercizio è il numeratore lo poniamo quindi minore di 0 intanto il denominatore non dà segno perché è sempre positivo cioè non influisce sul segno della frazione e in conseguenza si discute solo e esclusivamente il numeratore della frazione quindi domanda quando è questo i squadro più y quadro meno di 0 bene bene lo è quando quando siamo dove beh quando siamo all'interno del luogo geometrico rappresentato da questa espressione che espressione rappresenta è l'equazione di una circonferenza chiaramente che ha centro 0 0 perché se voi la vedete scritta in questo modo vedete che forse è più chiaro vedete che è la classica equazione della circonferenza che ha centro 0 0 e raggio 1 quindi centro 0 0 vedete che l'ho già disegnata io qua centro 0 0 e raggio 1 ok quindi e il minore cosa significa? beh il minore significa che la soluzione sarebbero i punti a questo punto interni e se voi provate a metterci dentro un punto vedrete che la disequazione cioè questa disequazione è soddisfatta solo dai punti interni a questo cerchio bene fatto questo bisogna intersecare questa soluzione con l'altra che avevamo già trovato che era x più y maggiore o uguale a 0 cioè che y maggiore o uguale di meno x ma la retta y uguale a meno x che retta è? è la bisettrice del secondo e quarto quadrante che ho disegnato in questa posizione allora adesso bisogna capire quale dei due dei due semi semi dei due semi piani è soluzione cioè può essere soluzione che va poi inserciata con l'altra beh qual è delle due? beh evidentemente se lo ci mettete dentro in questa espressione qua un punto per esempio il punto 1 1 vedrete che è verificato cioè nel senso che 1 è maggiore o uguale di meno 1 vedete? e di conseguenza la parte che soddisfa è diciamo il quadrante in cui c'è il semi piano in cui esiste il primo quadrante sostanzialmente cioè questo adesso vedete che intersecando la soluzione con il cerchio ottenete questa parte qua diciamo così cioè in poche parole la soluzione del vostro esercizio cioè il luogo geometrico che rappresenta la soluzione non è altro che questo semicerchio qua vedete adesso è un po' sporcacciato comunque è questo semicerchio ok ovviamente non sono compresi i bordi nel senso che andiamo a vedere un attimo la soluzione nel senso che c'è da escludere quel punto là ok comunque la soluzione è a questa la soluzione è a un semicerchio ok ripeto con l'esclusione del punto 01 che è rappresentato però sul bordo e quindi il semicerchio si può considerare come parte interna considerare la parte interna e quindi va più che bene come soluzione